Gaming e intrattenimento in movimento. Scopri il nuovo monitor gaming MAG 161V. Elegante e moderno, questo monitor gaming portatile ti permette di divertirti con giochi a 1080p. Inoltre, mentre giochi o guardi il tuo film preferito, avrai la migliore esperienza visiva grazie a colori perfetti. Le dimensioni di 15.6 pollici ti permette di portare il monitor ovunque tu vada, anche grazie al suo design sottile e portatile. Toglilo dallo zaino, collegalo alla console e divertiti. Il collegamento del telefono e della Nintendo Switch è facilissimo grazie al plug and play. Se hai annoiato durante un lungo viaggio in macchina, prendi il MAG 161 e divertiti. Stai facendo uno streaming in movimento, MAG 161V sarà perfetto come secondo monitor, permettendoti di essere ancora più multitasking ed efficiente. Per ulteriori informazioni, visita la pagina del prodotto. Grazie per la visione.